Questa è la nostra meta di oggi ed è così che inizia. La nostra salita inizia con una scaletta. Un bel inizio a verdica. Bene, la parte di sentiero l'abbiamo fatta, ma alla fine pensavo anche di più adesso. Teoricamente vorrebbe essere tutta stradina. Impossibile fermarsi i ragazzi, quindi si prosegue. Trattos probabilmente scarica. Fortunatamente c'è qualche tagliata che rende un po' meno monotone per salire la mulattiera. E poi fuori la moglie da schiare. Bene, riportiamo per la discesa. Questa è un fantastico discurso, un posto magico. Questa ragazzi, l'ultimo chilometro. E con questa spettacolare cascata io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sempre like, condividi e iscrivetevi al canale. Ciao!